Faremo tre chilometri in compagnia di tutti quelli che vorranno partecipare. Lo scopo è quello di sensibilizzare nella prevenzione al diabete di tipo 2, un diabete che può colpire tutti nella nostra popolazione. Una delle cose che ci permettono di prevenirlo è proprio il muoto. Il muoto è anche molto semplice, una passeggiata di mezz'ora al giorno ci permette di mantenere attivo il metabolismo e di combattere questa malattia. Una passeggiata nel cuore della città per la prevenzione del diabete. In occasione della giornata mondiale del diabete che quest'anno si celebra il 14 novembre, i Club Lions di Arezzo hanno organizzato per sabato 11 novembre alle ore 10 una camminata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'attività fisica nella prevenzione e nella gestione del diabete di tipo 2. Ci troveremo tutti in Piazza Sant'Agostino, alle 10 partiremo per la passeggiata, saliremo per il corso e arriveremo fino al Prato e poi scenderemo di nuovo giù verso Piazza Sant'Agostino dove i nostri volontari serviranno delle bevande ipocaloriche e uno spuntino sempre ipocalorico proprio perché non vogliamo aggiungere delle controindicazioni alle nostre prevenzioni. Ci saranno puscoli informativi che in modo molto semplice comunicheranno quello che è il diabete, quello che serve per evitarlo e come una corretta vita ci permette di stare lontani da questa malattia. Oltre al fine di convincere le persone a questa prevenzione direi che il fine nostro è anche un altro è quello di avvicinare più persone possibili alla nostra associazione proprio per quelle persone che sono interessate alle azioni di servizio e benefiche che noi facciamo.